Musica Aiuto agli scafisti avrebbero restituito tre imbarcazioni poi riutilizzate dagli scafisti per le tratte in mare. Emergono ulteriori dettagli sul sequestro della nave Juventa della ONG Judent Rettet, a riportarlo degli investigatori sotto copertura sui natanti. Roghi infiniti, non accenna a placarsi l'ondata di incendi in Sicilia. Nella notte e all'alba tanti roghi divampati nel Palermitano. Fiamme a Montagna Longa e a Casaboli, dove sono a rischio 800 ettari. Pericolo per le case sulla montagna di Cefalù. Uno per tutti, tanti i nomi per la poltrona di Palazzo d'Orlean, che però di fatto è una. Crocetta si autoproclama naturale candidato in quanto presidente uscente. Avanzano Lupo, Faraone e Micari, intanto il tempo scorre. Si ricomincia, il Palermo riparte dalla B e dal Barbera. Il 26 agosto la prima giornata di campionato, in casa contro la Spezia. Big match alla terza e alla dodicesima contro Empoli e Pescara, ma occhio alle cenerentole. E ben trovati amici telespettatori a questo nuovo appuntamento. Con la nostra informazione questi i nostri titoli. Come avete sentito avrebbero restituito tre imbarcazioni riutilizzate dagli scafisti per i viaggi in mare dei migranti. Emergono ulteriori dettagli sul sequestro preventivo della nave Juventa della ONG tedesca Judent Rettet. A testimoniare il tutto degli investigatori sotto copertura. Vediamo. Degli investigatori sotto copertura che avrebbero documentato il lavoro svolto dalle organizzazioni non governative durante le operazioni di salvataggio in mare dei migranti. Emergono ulteriori dettagli nell'inchiesta trapanese che in questi giorni ha portato al sequestro preventivo della nave Juventa dell'organizzazione non governativa tedesca Judent Rettet per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Stando a quanto hanno riportato gli agenti, gli operatori della ONG tedesca avrebbero consentito a soggetti che operavano nel territorio libico di recuperare tre imbarcazioni da riutilizzare per la partenza dalle coste nordafricane dei migranti. In particolare grazie all'uso della propria macchina fotografica, uno degli investigatori avrebbe visto una piccola imbarcazione della Juventa trainare verso le coste libiche le tre barche lasciandole alla deriva. Queste successivamente sono state recuperate e riutilizzate dagli organizzatori dei viaggi della speranza di cui uno è avvenuto il 26 giugno. Svista quella degli operatori della Juventa che va contro a quanto viene raccomandato durante le riunioni operative sui salvataggi a chi interviene e cioè di rendere inutilizzabili i natanti utilizzati per il trasporto dei migranti. Il sequestro della Juventa, ha commentato Iula Gelpk, portavoce della Link, non è altro che una banale manovra di ricatto con la quale il governo italiano vuole forzare le ONG a firmare un accordo bavaio che viola il diritto internazionale. Intanto il natante della Juventa Rettet ha lasciato Lampedusa alla volta del porto di Trapani. Avrebbero dato la loro versione della vicenda contestando le accuse o addirittura definendole false. Le tre donne agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta 12 apostoli indagate per associazione per delinquere e violenza sessuale aggravata su minorenni annunciano ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare. Le tre avrebbero convinto ragazzine tra i 12 e i 15 anni ad avere rapporti sessuali con il santone Pietro Alfio Capuana di 73 anni dell'Associazione Laica di Ispirazione Religiosa, Cultura e Ambiente. E torniamo a parlare di incendi, nuovi roghi tra la notte e le prime luci dell'alba in diverse zone boschive del Palermitano. Vigili del fuoco impegnati in massa per spegnere un grosso incendio a Montagnalonga tra Cinisi e Carini. Le operazioni di spegnimento sono iniziate nella tarda serata di ieri, ma i focolai che continuavano ad accendersi hanno costretto le squadre antincendio agli straordinari. In fiamme anche la pineta di Casaboli, a rischio 800 ettari di terreno in territorio di Monreale. Incendi anche nei boschi di Sagana, Pioppo, Monte Lefere e Acefalù, dove il rogo rischia di raggiungere le case a ridosso della montagna. E ancora cronaca, tragedia in un appartamento tra via Rigo Boito e via Cima Rosa a Palermo. Un anziano sarebbe morto carbonizzato a causa di un incendio divampato all'interno della sua abitazione. Un altro uomo che si trovava all'interno dello stesso appartamento è stato salvato dai vigili del fuoco e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civico per ulteriori accertamenti. Non si conoscono le cause del rogo, le cui fiamme hanno avvolto l'appartamento in pochi minuti. I vigili hanno fatto evacuare anche un altro appartamento adibito a casa di riposo, mettendo al sicuro altri sei anziani. E cambiamo argomento. Tanti inomi che negli ultimi giorni ruoterebbero attorno alla poltrona di Palazzo d'Orlean. Crocetta si definisce naturale candidato in quanto presidente uscente. Intanto avanzano Lupo, Faraone e Micari. Ma il tempo scorre. Avrebbe fatto un passo indietro se, e solo se, si fosse candidato alla presidenza della regione il presidente del Senato Pietro Grasso. Tiratosi indietro Grasso, Rosario Crocetta prende dunque la rincorsa per le regionali. Lo statuto del Partito Democratico, ha sottolineato Crocetta, prevede che il presidente uscente sia il naturale candidato. L'unica alternativa è fare le primarie, che devono essere richieste dal 30% della direzione. Stando alle sue dichiarazioni, l'attuale presidente sembrerebbe sentirsi in una botte di ferro per via dei tempi ormai brevi in cui un immaginario rivale dovrebbe costruirsi un immaginario sociale. Sono stato io a proporre una possibilità al PD, ha dichiarato Crocetta. Si facciano le primarie, si scelga democraticamente rispettando lo statuto. Il nodo però resta sempre quello della coalizione. Una volta chiarito quello, riferiscono i Dem, il candidato si trova subito. Diversi i nomi che negli ultimi giorni alleggerebbero su Palazzo d'Orlean, oltre a Crocetta, si è sentito parlare infatti del vicepresidente dell'Ars Giuseppe Lupo, vicino al ministro dei beni culturali Dario Franceschini e protagonista di uno dei tre faccia a faccia voluti dall'ex premier a Palermo. Ed è renziano sottosegretario alla salute Davide Faraone. Il colpo di scena su un eventuale accordo con Alfano però mette in campo anche Gian Piero D'Alia, leader dei centristi per la Sicilia. Tra i gettonati anche il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari. Tanti dunque coloro i quali sono stati presi in considerazione per prendere in mano le redini della regione. Ma più il tempo scorre, più il prediletto avrà meno giorni per mostrarsi al meglio. Sono entrati in un appartamento al primo piano di Piazza Marina a Palermo. hanno narcotizzato una coppia e il loro bambino di due anni, presumibilmente con benzo di azepine, per poi portare via oggetti preziosi, cellulari e computer per un valore di circa 20.000 euro. È accaduto la notte del 28 luglio e oggi la polizia è risalita finalmente agli autori. Sei gli arrestati. Il più piccolo avrebbe 14 anni, il più grande 24. I componenti della banda si sono arrampicati fino al primo piano dove le finestre erano state lasciate aperte a causa del caldo intenso. Guardando le immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno notato una ragazza con diversi tatuaggi che rassomigliava molto ad una giovane fermata qualche giorno fa alla stazione centrale. Cercando gli amici della ragazza, i poliziotti sono dunque risaliti ai componenti della banda. E cambiamo ancora argomento. Biglietti esauriti per la visita del Dalai Lama del prossimo 17 settembre a Taormina. A sua santità verrà conferita la cittadinanza onoraria della città di Messina in qualità di testimone della pace e di solidarietà nel mondo e come riconoscimento del suo impegno a favore del dialogo, della pace e del suo messaggio di fratellanza universale. Sentiamo. Il programma della visita messinese del Dalai Lama è stato definito ed anche per gli incontri previsti nella giornata di domenica 17 settembre a Teatro Vittorio Emanuele chi parteciperà dovrà pagare un biglietto, 30 euro per la platea, 10 euro per la galleria. Pure in questo caso, come per Taormina, la gestione dell'evento e del circuito box office, smentiti coloro che già il giorno dopo il nostro servizio avevano garantito che in città i messinesi avrebbero potuto ascoltare le lezioni di sua santità il Dalai Lama gratuitamente. Ma la tappa locale del Monaco tibetano alimenta in queste ore un'altra polemica. Già ieri vi abbiamo mostrato la locandina e nel programma è previsto il conferimento della cittadinanza onoraria. Tutto ciò di insaputa del Consiglio Comunale, organo al quale spetta l'eventuale decisione. Non esiste infatti al momento alcuna delibera e forse il sindaco Renato Corinti ha pensato di annunciare il conferimento della cittadinanza, sperando nella collaborazione del civico consesso. I consiglieri parlano di scorrettezza istituzionale, tra questi il capogruppo di Forza Italia, Pippo Trischitta. La Presidente Emilia Barrile questa mattina ha inviato una lettera al primo cittadino, rammentando i percorsi normativi previsti ed evidenziando la mancanza di quel necessario confronto con l'Aula, più volte ha auspicato, ma nei fatti spesso mancato. Una gaffa istituzionale che per la barrile è il segno di chi non ha compreso di rappresentare tutta la città ma solo una parte. Infine c'è un riferimento alle spese che saranno sostenute per lo svolgimento dell'evento. Sono legittime, si chiede il vertice del Consiglio Comunale, se si considera che Palazzo Zanca è un ente in fase di predissesto e la Corte dei Conti ha indicato che in questo momento possono essere sostenute soltanto le spese ritenute urgenti ed indifferibili. Insomma, una visita, quella del Dalai Lama, che prima ancora di purificare l'anima sta alimentando tantissime polemiche. Risale alla battaglia delle Egadi tra Romani e Cartaginesi il dodicesimo rostro ritrovato in mare a 80 metri di profondità a largo dell'isola di Levanzo. Un'importante scoperta che conferma l'ipoteci sul luogo in cui avvenne la battaglia e che arricchisce ulteriormente il patrimonio storico-culturale della Sicilia. Il reperto è stato recuperato grazie alla collaborazione tra la Sovrintendenza del Mare e la RPM, Nautical Foundation, statunitense, e presenta un tratto distintivo da tutti gli altri finora recuperati. La parte linea della prua della nave si trova infatti all'interno. La sua estrazione potrebbe fornire agli studiosi importanti informazioni sulla tecnologia navale adoperata per costruire le navi da guerra in quel periodo. Ancora visibili la chiglia, il dritto di prua e le due cinte laterali e la trave di speronamento. Siamo allo sport da Palermo a Salerno. La squadra rosa-nero riparte dalla cadetteria e dalle mura amiche. Il primo match di Serie B per i siciliani si disputerà infatti il 26 agosto al Barbera contro la Spezia, prima di andare a giocare il 3 settembre a Brescia contro le rondinelle dell'ex caracciolo. Il ritorno in casa alla terza giornata vedrà il big match delle retrocesse Palermo-Empoli. Un inizio difficile almeno sulla carta perché in Serie B si sa, nessuna partita è scontata e le sorprese sono dietro l'angolo come dimostrano Spal e Benevento, le due favole del calcio passate in due anni dalla Lega Pro alla Serie A. Occhio alle nuove Cenerentole, dunque, come è rifondato Parma post fallimento per punterà ad un'immediata risalita della massima serie. L'altro scontro tra le retrocesse, vale a dire quelle contro il Pescara, si disputerà invece il 4 novembre in Abruzzo, valevole per la tredicesima giornata. L'ultima gara del campionato il rosa-nero la giocheranno a Salerno, infine in uno stadio particolarmente caldo. E questa era l'ultima notizia per il momento è tutto, adesso vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Un saluto e un bel ritrovato, nuovo aggiornamento previsionale, un fine settimana sempre in compagnia dell'anticiclone africano su tutto il Mediterraneo, bel tempo quindi sull'Italia, ampio soleggiamento, qualche temporale non mancherà in giornata solamente sull'arco alpino. Andiamo a vedere quindi la copertura nuvolosa, ci conferma una giornata nel complesso Buona con cieli sgombri da nubi, al più qualche nuvoletta alta di passaggio al nord Italia. Nel corso invece del pomeriggio e serata qualche isolato temporale di calore non mancherà sulle Alpi settentrionali, Svizzera ed Austria, ecco qui più nuvolosità. Poco da segnalare altrove, andiamo alla prossima mappa che ci conferma una giornata molto molto calda sull'Italia, guardate le temperature massime localmente fino a 35-40 gradi sull'Emilia Romagna, Basso Veneto, tutte le zone interne del centro-sud, un po' meglio solamente lungo le spiagge mitigate dalle brezze marine, isolati temporali di calore solamente sulle Alpi più settentrionali. Con questo per il Meteo è tutto aggiornamenti scaricando l'app di trebimeteo.com Grazie a tutti.